Via libera all'impiego di cori e cantori durante le funzioni religiose e all'abolizione del distanziamento sociale tra i banchi per congiunti intesi come membri dello stesso nucleo familiare e persone che si frequentano abitualmente, è quanto stabilito dal Comitato Tecnico Scientifico dopo alcune osservazioni presentate dalla Conferenza Episcopale Italiana. Nella nota inviata dal CTS si legge che da ora sarà possibile l'impiego di cori e cantori in occasione di eventi di natura religiosa purché i componenti mantengano una distanza interpersonale laterale e almeno due metri tra le eventuali file del coro e degli altri soggetti presenti. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili. L'eventuale interazione tra cantori e fedeli, aggiunge il Comitato Tecnico Scientifico, deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento di almeno due metri. Novità anche per quanto riguarda gli ormai noti congiunti durante lo svolgimento delle funzioni religiose, non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi, congiunti, parenti con stabile frequentazione, persone non legate da vincolo di parentela che condividono abitualmente gli stessi luoghi dove svolgono vita sociale comune.